Non toccate la vostra città, non toccate la vostra città, ci siamo? Senta, allora un grosso sospiro di sollievo, la preoccupazione è superata? Sì, la preoccupazione è superata, devo dire che tramite voi, tramite un poco tutti, tranquillizzare la città, il lavoro che abbiamo messo in campo in questi 18 mesi ci è stato ripagato da questa delibera da parte della Corte dei Conti, quindi sono orgoglioso insieme alla squadra di aver fatto fino in fondo il mio dovere, il nostro dovere, nell'interesse della città di pagare. Adesso possiamo guardare al futuro in maniera molto molto più speranzosa. Qual era il nodo della questione, il nodo principale della questione che si doveva discutere lì alla Corte dei Conti? Diciamo che ce n'era più di uno, la credibilità del piano si basava su alcuni aspetti tecnici molto importanti, si parlava del consorzio, si parlava del consorzio di bacino, si parlava del multiservice, si parlava dei debiti fuori bilancio, dei loculi cimiteriari, quindi abbiamo dato delle risposte certe, serie e concrete di quello che si è fatto nel corso di questi mesi e di quello che abbiamo messo in campo per il futuro. Ed anche un atto importante è quello di aver messo anche in campo quello che è il recupero dei crediti, quindi i tributi del comune che fino ad oggi non era stato messo in campo. Ma questo ci dà fiducia per il futuro perché siamo certi di poter rispettare il piano, anzi abbiamo dimostrato con atti concreti che prendendo una cassa in negativo, con dati certi, con azioni serie e risolutive, abbiamo portato le casse del comune da un meno un milione e mezzo a un più tre milioni e mezzo. Significa che questa squadra è una squadra di persone serie, di persone per bene, che ha un unico interesse, che si chiama Pagani. C'era qualcuno che non credeva in questa risoluzione positiva e si preparava già a festeggiare lo scioglimento. Lei era preoccupato? Di questi non mi sono mai preoccupato, di questi personaggi squallidi che fanno i politici, fanno i giornalisti, si credono uomini amministratori ma che hanno un solo scopo, quello di andare contro la città perché la non approvazione di questo piano significava dissesto per Pagani, significava veramente affossare ancora di più la nostra città e questi non sono uomini o donne che hanno amore verso questa città, lo dicono a chiacchiere ma i fatti sono altri. Ci siamo dovuti difendere anche da questi personaggi squallidi. Domani è un altro giorno. Per Pagani è un giorno sereno, un giorno dove c'è l'arcobaleno. Quando dice che è una buona giornata, è una buona giornata oggi. Sì, c'è grandissima soddisfazione perché la situazione ereditata era alquanto difficile. C'era una cassa negativa di un milione e mezzo, c'era una posizione debitoria, un piano di equilibrio presentato solo da tre mesi dai commissari, senza che avessero messo in atto alcuna iniziativa. Per cui siamo soddisfatti perché alla fine quello che ha pesato di più nella decisione dei giudici sono stati i risultati dell'anno 2014 e del 2015, nel quale abbiamo dimostrato di portare avanti due avanzi che hanno ridotto il disavanzo del piano. Io le devo dare altro di una cosa, che lei è stata sempre ottimista, non ha mai voluto parlare finché non c'era il dispositivo, la sentenza. Quindi questo è il suo merito. Io caratterialmente sono fatto così, non mi piacciono i luci della ribalta, lavoro con serietà, con dedizione e sono convinto che alla fine il lavoro premia. E quando ripianeremo tutto il disavanzo? Non è che oggi in effetti abbiamo risolto tutti i problemi di Pagani, però è una giornata storica perché evitando il dissesto si possono porre le basi per attività migliori per il futuro. Quindi tutti al lavoro da domani mattina? Tutti ancora al lavoro, non al lavoro. E in bocca al lupo? Grazie a tutti.